C'era un'intera comunità, quella di Mocaiana di Gubbio, che festeggiava la realizzazione di un sogno. Covato da almeno dieci anni, concretizzatosi con la posa della prima pietra nell'ottobre del 2014, conclusosi ieri con l'inaugurazione del Cibua. Taglio del nastro in un caldo pomeriggio d'estate per questa struttura complessiva di 600 metri quadrati, dotata di cucine attrezzate e servizi, che da oggi in poi sarà a disposizione della comunità come luogo di ritrovo. 900 mila euro il valore dell'immobile, 400 mila quelli serviti per costruirla grazie al lavoro di volontari e alle sponsorizzazioni di tante aziende e liberi professionisti che hanno donato materiali e ore di lavoro. Il contributo maggiore è arrivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con 185 mila euro, quindi i fondi della Proloco di Mocaiana, Comune di Gubbio, Regione e tanti privati. Dieci anni fa era un sogno, poi siccome siamo stati un po' sempre attivi sulla zona, se devo dirla come sta, qui c'era un prefabbricato che era patiscente, ci rinunivamo qui, ci siamo detti dobbiamo fare qualcosa per Mocaiana, dobbiamo lasciare qualcosa che resti. Avemo cercato degli aiuti, il primo aiuto ci è arrivato dalla Fondazione tramite il Cavaliere Carlo Colaiacopo, poi di seguito un susseguirsi di aiuti, sono intervenuti artigiani, muratori, volontari, autotrasportatori, infine anche coloro che hanno dato un contributo solido a questo, ci avevamo messo tantissimo impegno perché sono due mesi circa che noi dalla mattina alla sera quelle 5, 6, 7 persone alternate siamo sempre qui, avevamo anche con la stagione che non era proprio favorevole che c'è stata, però ci siamo riusciti. Certo, non siamo riusciti a fare tutto, ancora c'è da fare, però speriamo sempre nella volontà di tutti i componenti della Proloco, se arriva ancora qualche aiutino non è che rifutiamo perché vogliamo veramente lasciare un'impronta qui a Mocaiana, ma non per noi perché noi ormai siamo arrivati a una bella età, ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi. Io faccio un augurio solo che i giovani, che quelli che verranno dopo di noi apprezzino quello che noi abbiamo fatto e che questa struttura resti veramente a disposizione di tutta la comunità. Hanno realizzato un vero capolavoro, i complimenti alla Proloco che ha saputo mettere insieme il Comune, la Fondazione Casa del Risparmio di Perugia, i privati, credo, insomma, un'impresa importante di Gubbio che non è secondaria rispetto a tutto l'investimento che è stato fatto. Una piccola mano l'ha data anche la Regione perché riteniamo che ogni volta che si mette a disposizione della comunità dei luoghi per stare insieme, per far vivere giornate all'insegna o dello sport o delle solidarietà o semplicemente anche per fare quelle feste che sono fisiologiche a volte in famiglia o nei paesi, sia una cosa importante per rafforzare lo spirito di una comunità, un'identità appunto che va salvaguardata. Ho sempre fatto riferimento al concetto di coesione sociale e di coesione territoriale, che significa avere una comunità appunto che lavora per l'inclusione, per lo stare insieme, per le relazioni sociali e umane, per il controllo del territorio, perché poi lavorare su questo significa anche presidiare il territorio, renderlo più sicuro per i giovani, per i bambini, per gli anziani, per le fasce più deboli. Poi naturalmente queste strutture, per le quali sicuramente va un enorme merito ai soggetti che le hanno sostenute, a cominciare dalla fondazione, dallo stesso comune, ma va un plauso particolare alla Proloco, alla frazione di Mocagliana, ai volontari e a tutti quelli che veramente si sono fatti carico di un'impresa veramente ardua, audace, ma che alla fine premia anche i loro sacrifici e i loro sforzi. Ecco, queste realizzazioni favoriscono anche la presenza in un territorio complesso e articolato come il nostro di punti di riferimento che consentono di lavorare sempre meglio a beneficio di tutta la nostra comunità, perché sono strutture che in primis rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale e per la frazione, ma al tempo stesso sono anche un patrimonio dell'intera città. Questa è veramente una giornata molto importante, io sono veramente emozionata di essere qui. Ricordo che ero presente alla posa della prima pietra, era il 2014 e ci tenevo tantissimo ad esserci alla conclusione di questi lavori. Diciamo che per me la realizzazione di questo progetto contiene il significato di quello che è l'amministrare la cosa pubblica, cioè cercare di creare le condizioni e di creare quelle reti che fanno sì che una realtà come una Proloco poi riesce a fare delle realizzazioni così importanti, quindi a partire dalla convenzione, dalla permuta dei terreni, ai contributi che abbiamo dato per realizzare le recinzioni e a tutto il resto, con questo gioco di squadra siamo riusciti veramente a creare un risultato memorabile, non solo per questa realtà ma per tutta la città. La fondazione si è impegnata, ha dato un contributo notevole per realizzare questo complesso, e adesso siamo soddisfatti di aver partecipato a questa iniziativa, a vedere questo bel complesso, facciamo i complimenti a tutti quanti perché non è che soltanto hanno speso i soldi che avevano racconto, sono state anche impegnate tante persone a mettere a posto. Una struttura che per la sua progettazione antisismica potrà essere anche un punto di riferimento in situazioni di emergenza e che riceverà il battesimo degli eventi in occasione della festa della Madonna della Neve dal 21 agosto prossimo. Non tutto è stato concluso, nei prossimi mesi e anni la Proloco di Mocaiana intende arricchire il parco esterno dotandolo di un campo da bocce e giardini attrezzati con giochi per bambini. Serviranno altri fondi ed altro lavoro, ma di fronte a quanto è stato fatto in un periodo di crisi economica pesante per tante aziende, nulla ora sembra impossibile. Quando c'è la condivisione del lavoro, quando ognuno mette del suo e quando c'è il desiderio di lasciare anche qualcosa per chi virrà, poi i miracoli avvengono veramente. Molto importante per due motivi. Prima di tutto perché qui può avvenire un passaggio di consegne tra le varie generazioni, cosa che oggi risulta sempre molto difficile. Sembra quasi che la norma debba essere quella del conflitto fra le generazioni. Seconda cosa perché credo che qui possa venire un'altra cosa di cui i più giovani hanno bisogno, cioè un ascolto accogliente che da parte dei più grandi possa comprendere i loro veri bisogni. Perché poi anche dal mondo giovanile viene sempre tanta vitalità, originalità, nuove idee, però se non c'è un luogo dove può accadere questo incontro il rischio è che si perde questa ricchezza. Grazie a tutti.